eccomi qua ragazzi massimo intervista allora io ero un po incazzato subito dopo la partita post partita incazzatissimo me la sono presa con tutti soprattutto con Aslani però effettivamente non c'entra niente non è che abbiamo parlato a Monza per colpa sua però però c'è da dire che oggi dopo 24 ore non posso dire di essere contento del pregio di ieri a Monza io ieri a Monza volevo vincere e potevi vincere dovevi vincere ok che c'è mercoledì il sito che domenica c'è il derby ok il turn over e tutto però sono una quarta giornata hai cinque campi a disposizione secondo me a Monza e dovevi vincere tu devi andare a Monza e devi vincere devi vincere cioè io a vedere il primo tempo Lautaro Turam così molli ragazzi io non ce l'ho fatta un Aslani lentissimo che per carità ripeto non è colpa sul paro lentissimo un po' tesi che il nazionale sembra Maradona quando non lo so un migliore sotto tono poi tutti tutti se fosse un po' di Marco non lo so però ho visto veramente una bruttissima Inter un brutto atteggiamento un atteggiamento non so sufficiente un po' come dire tanto la vinciamo abbiamo già vinto cioè devi giocare se vincere la partita devi giocare oggi è così anche contro i piccoli devi correre devi fare ragazzo invece ieri secondo me cioè disgustato dall'atteggiamento mi sembra che la posto in palio fosse insignificante invece c'è tre punti anche domenica prossima il derby se vincere tre punti è vero che il derby ha avuto a sé però sono tre punti non è piaciuta questa cosa qua mi sembra un po' l'Inter non sul pezzo non sul pezzo e dopo quattro anni che sei sulla questa panchina qua mister Inzaghi questa cosa devi sapere no queste le partite come dire dove c'è il di tensione tu devi essere bravo io questo forse contesto cioè io non mi è piaciuto però l'approccio la preparazione della partita non so come dire come come l'abbiamo presa sono rimasto deluso anche a distanza di tempo di tutti i quattro cioè non sono arrivato come ieri però è chiaro che per me sono due punti buttati niente si va avanti ci mancherebbe altro forza Inter per me che sono lo stato e si inciterà se andavo stato di città sempre ragazzi ci mancherebbe altro però fatemi dire che non sono contento cioè non mi sembra di dire una cosa oscena o scandalosa non sono contento della prestazione del risultato della classifica nonostante non stiamo mantenendo la vetta da l'udinese che oggi ha vinto a parma tra due cioè pensa un po e niente siamo lì dopo quattro giornate a dei punti l'udinese a un punto dal napoli di conte niente c'è mi aspettavo questa partenza qua c'è ma comprendo per dire di più comprendo di più per dire che il 3 0 del napoli che ha preso col verona il pareggio dell'avventus con l'empoli con la roma il mine che parte così a singhiozzi perché giustamente hanno un allenatore nuovo giocatore nuovo quindi ci sta che magari inizialmente facciamo un po fatica gente mi aspettavo una partenza come dire tranquillo avevano nato le quali conosce benissimo la squadra nel quarto anno l'inter un giocatore che gira da solo siamo un paio d'anni va invece niente di grado provo vinceremo tutto qui detto questo domani occupiamo abbiamo occupiamo anche l'avventus e niente stasera stasera e così vediamo cosa fa in manchester non dico niente forse interna su intervista in ovvio forse inter sempre